ben trovati amici alla rassegna stampa di fano tv diamo subito un'occhiata ai giornali oggi ci sono molte notizie in modo particolare tratteremo lo sport dopo un weekend denso di gare e anche di risultati ovviamente a partire dalla regina delle competizioni che possiamo considerare oggi la Colle Marathon che si è svolta con grande affluenza sia di atleti che di pubblico nella giornata di ieri oggi è lunedì 8 maggio 2023 e vediamo che cosa si festeggia oggi vediamo qui la grafica ebbene è la festa della Madonna del Rosario di Pompei il Rosario di Pompei tutto nasce da un'apparizione della Vergine alla fine dell'Ottocento nei campi a Bartolo Longo un personaggio appunto del napoletano se propagherai il Rosario sarai salvo le avrebbe detto la Madonna fu così che nacque il santuario di Pompei oggi Basilica Pontificia dove si costudisce un famoso quadro che viene poi replicato in tante tante chiese si calcola che 4 milioni all'anno facciano visita a questo santuario per pregare appunto la Madonna del Rosario che si festeggia nella giornata di oggi vediamo le previsioni del tempo ieri veramente una giornata splendida primaverile calda oggi il cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili locali e deboli piovigini nel pomeriggio ci sarà della instabilità in modo particolare nell'Appennino i venti sono deboli sulle coste da nord nord est e così come nell'entroterra il mare è poco mosso e le temperature si aggireranno anche oggi tra i 14 e 19 gradi ieri hanno toccato anche punte di 20 gradi e quindi cominciamo subito la nostra occhiata ai giornali a partire dalla pagina di Fano delle Corriere Adriatico ecco qua il titolo che evidenzia il successo della Colle Marathon è tornata la festa in titola il giornale Mille Podisti tagliano il traguardo veramente un'affluenza eccezionale vince per la quarta volta ormai senza avversari Iunez Zituni un atleta marocchino tra le donne l'affermazione della sirolese Silvia Luna ma l'iniziativa ha avuto un altro successo ed è quello del pubblico, quello della festa, quello del colore in una bella giornata l'arrivo è stato fatto molto molto intelligentemente al Pincio che ha valorizzato ancora di più l'iniziativa con la sua bella cornice e quella che si è svolta ieri è la diciannovesima edizione che è giunta al traguardo, possiamo così definirla dopo non molte difficoltà che però sono state intelligentemente superate da Annibale Montanari che è l'organizzatore che è riuscito a coinvolgere anche molte istituzioni il comune di Fano, la regione eccetera per realizzare questa iniziativa nella competizione principale è Iunez Zituni a celebrare il suo quarto successo personale centrando per giunta un risultato cronometrico molto importante pensate, ha percorso i 42 chilometri e 195 metri in due ore, 31 minuti e 3 secondi veramente un tempo eccezionale nonostante il caldo insidioso perché il caldo ieri veramente ha inficiato un po' sulle gambe ha inficiato le gambe degli atleti lascia a 5 minuti e mezzo Michele Belluschi della Grottini Team di Recanati primo tra i marchigiani davanti a Massimiliano Strappato dell'Atletica Osimo non figurano, non sfigurano affatto gli urbaniesi Boiniega, quarto, Luca, ottavo, Lorenzo mentre il fanese Riccardo Quattrini si rivela ancora competitivo quindi veramente una festa per tutti ma poi c'erano anche altre gare di minore impatto sempre inserite nella Colle Marathon nella Alfe Colle Marathon nella mezza Maratone insomma con partenza da Mondolfo invece che da Barchi arrivo a Braccetto per il filo tranese Giorgio Lampa e Andrea Barcelli dell'Avis Castel San Pietro con generarchia fissata dai centesimi mentre Nicola Borini dell'Atletico Urbagna va a completare il podio questo è un po' il servizio che ha realizzato Andrea Maduzzi per questa bella competizione nella giornata di ieri e visto che siamo appunto guardando lo sport possiamo completare il giro sulle pagine sportive dei giornali vediamo il resto del Carlino spettacolo ed emozioni al Tamburini applausi, eccolo qua applausi alla Vigor sorride il Monte Giorgio siamo in serie D il Pineto vince sfuma il sogno C per la Senigallia i padroni di casa evitano a tempo scaduto la retrocessione diretta ora ci sarà lo spareggio invece per quanto riguarda il fanocalcio si procede a gonfie vele un'alma fano strepitosa suona la quinta notaresco K.O. è ora a missione Trastevere Granata in versione Baby partano a Razzo con Zingaretti poi ci pensano Drole e Nappello che su punizione regala la vittoria ai suoi ma diamo un'occhiata anche al Corriere Adriatico come riporta queste notizie e vediamo che per quanto riguarda la VIS c'è una buona notizia perché la VIS ormai è salva questo è il titolo che appare sul giornale l'ex mister Biancorosso Maggi è molto fiducioso mi viene da dire che alla fine è giusto che sia così una società che rispetta le regole deve essere privilegiata rispetto a chi non fa altrettanto questo per quanto riguarda tutte le vicissitudini che hanno caratterizzato il campionato veniamo alla promozione il Montecchio detta la sua legge l'Urbania può solo inchinarsi il risultato di questa gara Urbania 1 Montecchio 2 quindi una bella vittoria fuori casa per il Montecchio invece un pareggio tra il Valfoglia e il Mondolfo Marotta 1 a 1 siamo sempre in promozione il Valfoglia prova a scappare Mondolfo Marotta pari di rigore ed ora diamo un'occhiata anche all'articolo che riguarda i Granata il Fano non si ferma più quinta vittoria di fila l'Alma costringe il notaresco allo spareggio e si presenta nel migliore dei modi ai play-off domenica prossima in Granata avranno a Roma la semifinale play-off in gara unica con il Trastevere che in virtù della migliore posizione in classifica si qualificherebbe alla finale del 21 maggio anche pareggiando a termini di tempi regolamentari e poi anche quelli supplementari anche il Corriere Adriatico si interessa della partita della Vigor di Senigallia Vigor purtroppo sfuma il sogno della C e la competizione con il Montegiorgio è finita 1 a 1 vediamo ancora per quanto riguarda l'eccellenza la finale play-off sarà Fossombrone e Atletico Gallo battute ed eliminate Montefano e Azzurracolli domenica 14 maggio in Paglio un posto per gli spareggi nazionali e poi vediamo la pagina che riguarda il basket eccolo qua missione completata la VL va ai play-off il Pesaro batte il Tortona Brescia va a K.O a Scafati forse sabato gara 1 con Milano e la vittoria con il Tortona assegna i punti dei 82 a 78 un risultato straordinario lo dice Repesa Ario nello spogliatoio e mi ha detto che questa è la migliore stagione che è stata fatta dalla squadra e invece qua ci sono le note dolenti le note dolenti vigilar la semifinale è amara peccato dopo un campionato strepitoso la finale è stata veramente molto deludente 5 sconfitte di fila per la vigilar non è un risultato che ci si aspetterebbe per una squadra che ha sollevato gli entusiasmi di tutta Fano nella post-season Fano è stata ostaggio dei suoi guai Marx rientra ma non può bastare anche perché non si era allenato da tanto ricezione regie attacco sono fuori fase Casarano si gioca la promozione in A2 contro il Catania dopo aver vinto la partita la gara di ieri per 3 a 1 finisce male dunque l'annata della vigilar persino troppo per una squadra che aveva saccheggiato la stagione regolare ma che nella post-season è finita ostaggio dei suoi guai così dice il Corriere Adriatico è stato veramente un peccato perché era un campionato veramente bello e strepitoso fatto dalla squadra di casa ed ora passiamo alle altre notizie vediamo i risultati turistici non solo quelli sportivi ottenuti dalla Colle Marathon che segna un 500 presenze negli alberghi e quindi attrae veramente molte molte persone che potranno anche che possono hanno potuto anche visitare Fano per quanto riguarda le sue bellezze e forse chissà ritorneranno anche in estate invece in questo altro articolo si parla di azienda pubblica dei servizi alla persona la cosiddetta ASPE è oggetto di critiche da parte dei fratelli d'Italia in quanto in quanto questa situazione impone che si paghi l'IVA ai servizi alla persona ed è probabile appunto che chi dovrà sostenere questo onere dovrà poi riversarlo sugli utenti ecco perché i fratelli d'Italia chiede chiarezza intorno a questo nuovo provvedimento e poi c'è ancora qui l'articolo degli ambientalisti che danno il premio cemento a Massimo Seri che candidano anche a Massimo Seri candidano Massimo Seri al premio cemento per l'abbattimento di alberi che sono stati effettuati in città e che verranno effettuati per realizzare progetti dei lavori pubblici passiamo a Mondolfo a Mondolfo c'è un bel e interessante appuntamento di carattere gastronomico in occasione dei 40 anni dei weekend gastronomici e oggi il critico il critico Edoardo Raspelli dialogherà alle 16.30 al Salone Aurora presso il complesso monumentale di Sant'Agostino appunto a Mondolfo con il giornalista del Carlino Davide Eusebi e poi con Amerigo Varotti direttore generale della Confcommercio e con altre persone ebbene la gastronomia è sempre oggetto di grande interesse per quanto riguarda il nostro territorio perché si è constatato che il buon pesce il buon cibo i prodotti tipici i prodotti a chilometro zero fanno una bella attrazione costituiscono anche una bella attrazione per chi vuole andare in vacanza perché chi vuole andare in vacanza vuole mangiare bene e qui da noi si mangia veramente bene un episodio di vandalismo assegnato a Mondolfo strappano anche i manifesti funebri un nuovo raid di queste persone che hanno strappato così questo atto incivile che è stato fatto solidarietà di Mancini del Partito Democratico per ridanni anche al murale questo per quanto riguarda la Val Cesano diamo un'occhiata anche a Senigallia e vediamo che il weekend è stato molto attenzionato così come si dice dalle forze dell'ordine task force nei luoghi della Movida cinque ragazzi trovati con lo sballo tutti tra i 17 e i 23 anni quindi c'erano anche dei minorenni avevano Ascis e Marijuana controlli dei carabinieri con due unità cinofile ebbene nella notte tra sabato e domenica i militari hanno effettuato un mirato a servizio antidroga a Senigallia finalizzato ovviamente a prevenire e a reprimere le condotte di uso e spaccio degli stupefacenti e qui hanno trovato veramente di che di che agire nei confronti dei trasgressori si tratta di un ragazzo 17enne di Senigallia che aveva due grammi e mezzo di Ascis poi sono stati identificati e perquisiti due giovani di 17 e 18 anni residenti in provincia di Pesaro trovati in possesso rispettivamente di circa un grammo e 5 grammi di Ascis i carabinieri hanno proceduto inoltre anche a identificare un 22enne residente in provincia di Ancona che aveva uno spinello e una dose di Ascis infine è stato controllato anche un 18enne residente in provincia di Pesaro trovato in possesso di un grammo e mezzo di marijuana quindi veramente hanno trovato persone con la droga vediamo anche le notizie che riguardano Pesaro dove anzi no vediamo in Ancona perché già oggi si parla di bandiera blu sul ponte sventola la bandiera blu insomma non è la bandiera bianca della nota poesia ma è la bandiera blu quella del turismo quella che certifica che quella località dove sventola la bandiera è veramente adeguata sia per quanto riguarda la tutela dell'ambiente sia per quanto riguarda la vivibilità abbiamo acque pure balneabili abbiamo piste ciclabili abbiamo servizi alla persona insomma i turisti possono veramente godere di tutte le opportunità di tutti i servizi di una città veramente qualificata sul ponte sventola la bandiera blu i 17 sindaci tutti invitati a Roma quindi vuol dire che bene o male sono stati invitati loro avranno la bandiera blu venerdì prossimo nella capitale si terrà la cerimonia ufficiale durante la quale verranno consegnati i prestigiosi vessilli le marche verso la riconferma dei comuni già premiati lo scorso anno con Sirola con Sirolo spiaggia dei record e vediamo qui anche le interviste rilasciate da tre sindaci abbiamo il sindaco di Fano Massimo Seri una garanzia della qualità per il turista Fano ancora deve lavorare un pochino per avere tutto il litorale con la bandiera blu ci sono ancora dei tratti che non non vengono candidati perché poi si sa che non riusciranno ad avere il vessillo a causa dell'arzilla a causa di problemi dove magari c'è ancora qualche sommovimento di qualche sfiatatoio e via dicendo e poi abbiamo qua il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica è il sindaco di Fermo che è Paolo Calcinaro un incaricato si occupa solo di ottenerla veramente occorre una grossa documentazione per ottenere la bandiera blu dice Calcinaro mentre per quanto riguarda Ciarapica la conferma un impegno lungo un anno vedete come tutti i sindaci dicono che è laborioso ottenere la bandiera blu e non è affatto uno scherzo insomma non lo si ottiene così tanto per partito preso meno imprese ma export da record l'agroalimentare pesa 555 milioni nell'ultimo decennio perse 7.000 iscrizioni eppure le vendite all'estero nel 2022 sono salite del 20% un articolo che riguarda un po' tutto il territorio regionale ma veniamo a Pesaro della provincia e vediamo che si parla di gite scolastiche in entrata e non in uscita cioè sono le scuole che vengono nella nostra provincia per vedere le nostre bellezze e in testa c'è Gradara Gradara perché Paolo e Francesca il castello il borgo medioevale creano tanta tanta suggestione e quindi gli studenti fanno questa immersione nel corso della storia e vedono questo castello che è un po' artefatto dobbiamo dire perché nel 1900 è stato veramente un po' ricostruito così diciamo però la suggestione è grande e molti studenti vengono appunto in provincia di Pesaro per vedere il castello di Gradara e assaporare la storia di Paolo e Francesca Gradara fino al 31 maggio 50.000 visite tutte prenotate e poi arriva anche Pesaro perché Pesaro ha le sue attrattive da gennaio ad aprile 160 scolaresche 9.000 ragazzi Carpegna per quanto riguarda l'ambiente finora 2.000 pernottamenti Mondavio con la sua Rocca in media 2.000 visite e poi abbiamo l'ospitalità per quanto riguarda la disponibilità di una quindicina di alberghi solo per quanto riguarda Pesaro il costo è 30-35 euro per una stanza tripla ci fanno 3 a studenti e poi con pensione a persona invece Fano Fano Latita per quanto riguarda questo settore pochi i viaggi di istruzione mancano hotel adeguati cioè a Fano mancano hotel che possono ospitare scolaresche intere ma le scolaresche sono di 20-25 persone non sono nante ma il fatto è che poi si sommano più scolaresche e allora 50 stanze ci sono pochi alberghi credo non so se ci siano ancora a Fano che possano ospitare tante tante persone ma sarebbe comunque un settore questo da approfondire perché veramente crea crea vera crea turisto crea turismo e crea presenze ho visto il pirata della strada urtare Alessandro in scooter ebbene ora si qualifica si chiarisce molto molto bene il testimone chiave che ha visto in diretta questo incidente un incidente che si è verificato il 25 maggio del 2014 nel corso del quale è rimasto vittima Alessandro Monetti che purtroppo da quella data è in sedia a rotelle si tratta di un investimento di un investimento l'utilitaria che ha investito questo giovane si è fermato un attimo l'uomo è sceso poi cosa ha fatto è risalito ed è scappato quindi non ha soccorso la persona che aveva investito ebbene giovedì 18 maggio l'uomo è stato identificato è stata di un cinquantenne di caserta che transitava nella zona dell'incidente e quest'ultimo verrà ascoltato dal giudice durante l'udienza delle 11.30 alla quale interverranno Alessandro il padre di Giuseppe Monetti scusate Alessandro e poi il padre Giuseppe e l'avvocato milanese della famiglia Domenico Musico presidente dell'associazione vittime incidenti stradali e sul lavoro che interrogerà il test per la parte l'ESA è un processo questo di carattere civile che implica un rimborso spese rilevante lo dice alla fine l'articolo di Milena Bonaparte in questi casi il risarcimento potrebbe superare un milione di euro eccolo qua la conclusione dell'articolo vediamo ancora la pagina di Urbino al via il corso della risata un farmaco per la salute è vero ridere fa bene alla salute che cosa accade accade che con un procedimento fisico chimico il corpo umano si beneficia della risata l'accademia di Urbino invita alla partecipazione per scacciare stress e tensioni a partire da questa sera e poi con tutti i lunedì successivi fino al 19 giugno parte la 26esima edizione del corso di formazione dell'accademia della risata di Urbino il tema è psicologia del benessere una risata contro lo stress che si terrà come sempre nel teatro universitario del collegio La Vela di Urbino in via dei Capocini dalle 21 alle 23 e 30 il corso è gratuito e aperto a tutti e quindi vi invito a partecipare abbiamo esaurito l'esame del Corriere Adriatico diamo un'occhiata anche al resto del Carlino con la sintesi della prima pagina dato che come tutti i lunedì il giornale è un po' in edizione ridotta vediamo i richiami sulla pagina di Pesaro si parla del basket come sulla pagina di Fano si parla della Colle Marathon ma il risultato del VL infiamma i cuori basket trionfo VL finale trailing poi il delirio playoff Pesaro batte Tortona ma è decisivo il K.O. di Brescia a Scafati esplode la festa all'astronave ora la sfida con Milano due notizie poi per quanto riguarda la cronaca ma anche così quello che sta accadendo i marciapiedi pieni di buche l'assessore faremo interventi questa è una denuncia che fanno i lettori che fanno i residenti all'amministrazione comunale e poi una domenica già d'estate quella di ieri voglia di mare tutti in spiaggia anche con le auto però fioccano le multe fioccano le multe insomma è già una prima visaglia per quanto riguarda quello che accadrà nella prossima estate vediamo Ancona dove c'è la visita di due VIP si tratta del leader 5 Stelle Conte Giuseppe Conte ecco perché non ci siamo alleati con il Partito Democratico La Premier Salvini e Tajani insieme per Silvetti domenica si vota questo è il richiamo della prima pagina di Ancona e poi vediamo che nel capoluogo c'è una rissa in discoteca i buttafuori voi non entrate presi a calci e pugni caccia ai responsabili a Falconara invece ha successo la città capitale del fumetto edizione record centomila presenze una iniziativa che attira molte molte famiglie con i bambini che rivedono un po' i loro eroi nei grafic nei fumetti ma anche gli adulti che fanno collezione di questa letteratura ad Ascoli aggressioni ai pronti soccorsi più soldi ai medici ormai in fuga veramente c'è una fuga dagli ospedali dei medici che se ne vanno troppi rischi e troppi disagi e poi ad Acquaviva salva l'amico che ha un ictus mentre parla al telefono e a Porto San Giorgio marea rosa più di mille donne alla camminata della solidarietà e le vediamo qui tutte con una maglietta di questo colore a Borgo Solestà il cimitero della vergogna degrado incuria e tombe nascoste in mezzo all'erba occorre subito intervenire diamo un'occhiata anche alla provincia di Macerata i big della letteratura la sfilata dei finalisti del premio strega il festival di Macerata racconta invece a Corridonia c'è stata l'inaugurazione del centro pastorale e a Civitanova l'episodio di cronaca prende a pugni il rivale in amore parapiglia a Cristo Re e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie per la visione